Salve a tutti, sono Sascha Palanca, vi parlo dall'ITC Donati di Fossombrone. Oggi siamo qui con Mario Pierleoni e affronteremo la preparazione del pane all'orzo. Come è nata questa idea? L'idea è nata perché l'Università di Ancuna ci aveva incaricato di vedere se era possibile ottenere del pane buono, del pane commestibile utilizzando della farina d'orzo perché erano in pratica quasi secoli che qui da noi, nella nostra zona, non si utilizzava più questo cereale per fare il pane. Ci ha incaricati, noi abbiamo fatto le prove, abbiamo visto che il pane veniva bene, era buono e quindi abbiamo continuato ad utilizzarlo nella nostra produzione, ormai sono 4-5 anni che lo facciamo correntemente. Quali sono i benefici di questo pane? I benefici sono notevoli perché riguardano sia il colesterolo, quindi i grassi che vengono accumulati nel sangue, sia nelle arterie, nelle vene, sia il diabete, quindi gli zuccheri che appunto aumentano la glicemia. Mangiando il pane all'orzo, alcuni reparti ospedalieri addirittura hanno fatto degli esami alle prove di sangue che venivano estrati ai pazienti e hanno visto che sia la glicemia, sia il contenuto di grassi nel sangue veniva appunto a ridursi dopo aver mangiato questo pane rispetto al pane bianco. Quindi questi sono i benefici soprattutto, minori zuccheri nel sangue e minori grassi nel sangue. Da dove reperite la farina con cui fate questo pane? All'inizio ci eravamo rivolti a dei molini nazionali e quindi compravamo la farina che si reperiva in commercio però questi molini non ci davano la caratteristica, l'esclusiva, che l'orzo fosse quello che aveva un elevato contenuto di sostanze benefiche come i beta-glucani ed erano quelle che l'Università di Ancona aveva invece fatto analizzare. Allora, siccome non lo si trovava in commercio, abbiamo incaricato un colono, che ormai sono anni che ci fornisce appunto questa materia prima, di piantare questi semi particolari, di queste varietà particolari, di farlo macinare, ottenere quindi la farina in un molino a pietra e quindi noi con questo ci facciamo il pane, ormai da anni. È difficile preparare questa tipologia di pane oppure è normale? No, purtroppo non è normale perché l'orzo, oltre alle altre caratteristiche che vi dicevo, ha quella di avere pochissimo glutine. Il glutine è quella sostanza che fa lievitare il pane e siccome ne ha poco poco, il pane se si utilizza esclusivamente farina di orzo non è possibile farlo perché rimarrebbe come una piadina, rimarrebbe schiacciato. E quindi dopo vari tentativi, dopo varie prove, abbiamo visto che mescolando un 60% e questo è il quantitativo maggiore che siamo riusciti ad ottenere, 60% di farina d'orzo e 40% di farina bianca il pane veniva molto bene, molto buono e quindi abbiamo superato questo ostacolo. A quanto si aggira più o meno il suo costo? Il costo si aggira uguale a tutti gli altri pani speciali, non abbiamo ricaricato assolutamente di più. Il prezzo è uguale a tutti gli altri pani speciali, quindi 4,50 euro al chilo. Come ultima domanda, vorrei chiederle dov'è che si può riprire questo tipo di pane oltre al suo forno? Allora, qui a Fossombrone, dove è il laboratorio che lo produce, abbiamo una rivendita, il panificio Archilei. In più, due rivendite nostre a Urbino, che lo trattano naturalmente. Inoltre, abbiamo diversi rivenditori che sono ad Acqualagna, a Calcinelli, a Fano e a Pesaro. In pratica, tutta la provincia è possibile avere questo pane all'orzo. Ok, ringrazio il signor Mario. Qui dal Donati è tutto, ciao. Ciao.